Musica Proseguono senza sosta le ricerche di Luca Moretti, il 26enne scomparso da Rigutino lo scorso 26 maggio. Carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari nelle ultime ore stanno battendo la zona di Val di Chio, nel comune di Castiglion Fiorentino. In precedenza le ricerche si erano concentrate nei pressi del casello autostradale, prendendo come riferimento l'ultima cella agganciata dal cellulare del ragazzo e lungo il canale maestro della Chiana tra Rigutino e Dolmo. Di Luca si sono perse le tracce da oltre tre settimane. Quel pomeriggio, secondo la ricostruzione, si sarebbe allontanato da casa attorno alle 14.30 per incontrare un amico con il quale avrebbe trascorso alcune ore. L'amico ha poi riferito agli inquirenti di averlo riaccompagnato nello stesso pomeriggio, ma Luca non è più tornato a casa ed il suo cellulare risulta irraggiungibile dalla sera della scomparsa. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo con titolare il PM Marco Dioni al momento senza indagati. Cresce ovviamente giorno dopo giorno la preoccupazione per la sorte del giovane. Sui social network continuano a ripetersi gli appelli degli amici del ragazzo. La richiesta è sempre la solita. Chiunque avesse visto Luca nelle ultime settimane si mette in contatto con i carabinieri. Il 26enne al momento della scomparsa aveva la barba lunga di qualche giorno e di capelli ricci castani e di statura media e di corporatura robusta.